Io arrivo a Gran Popò, sulla spiaggia di Gran Popò, ma come spacca l'oceano qui, distesa di sabbia infinita, è il tramonto ormai, sono in Benin, le tartarughine, le belle tartarughine, ho la tartarughina in mano, molto piccola, ed eccomi con la tartarughina in mano, Gran Popò, Benin, stanno mangiando le tartarughine, l'ultima cena, un po', un po', il palazzo reale di Abomeni, è il patrimonio dell'umanità questo palazzo, Il palazzo reale di Abomeni, da c'è il palazzo reale, So, Il palazzo reale di Abomeni, da c'è il palazzo reale,